Suma è il tradizionale evento per vignaioli d'eccellenza provenienti da tutto il mondo che in contemporanea al Vinitali di Verona si ritrovano a Magrè per presentare i propri vini. La manifestazione di due giorni, prevista anche per la giornata di domani, si tiene nella storica cornice di Cason Hirschprun, un palazzo rinascimentale del 600. Un ambiente unico che accoglie esperti del settore italiano e straniero, offrendo loro la possibilità di degustare vini pregiati ed entrare in contatto diretto con i produttori. Nel corso degli ultimi 16 anni Suma è diventato un appuntamento sempre più apprezzato e di crescente affluenza. Sono attesi oltre 2000 visitatori. Anche quest'anno si pone particolare importanza al tema dell'ecologia. Suma 14 infatti è realizzata secondo le logiche di gestione di un green event. Quest'anno abbiamo voluto porre in evidenza la coltivazione biologico-dinamica perché sono ormai 90 anni che Rudolf Steiner desse le lezioni sull'agricoltura biologico-dinamica. Allora è un anniversario che volevamo festeggiare con Demeter perché Demeter ormai da 86 anni esiste e promuove questa lavorazione molto naturale e sensibile.